salve amici in questa in questo video andiamo a fare una costruzione al tonno di mini mini trombetta come si vede in proporzione questa è una trombetta da porta chiave un'altra trombetta Grazie a tutti. 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 Ecco il confronto con l'altra tombetta. Come vedete c'è fatto il foro per inserire nel portagliave. Ok? Al prossimo video. Ok? Ok?